Per Nissan, Ginevra ha fatto rima con futuro, quello prossimo con le tecnologie di guida semi-autonoma per l'attuale gamma e quello più lontano con una versione aggiornata del concept IMAX Kuro. Sullo stand principale del Salone di Ginevra abbiamo quello che è il futuro di Nissan, un futuro immediato con la presentazione, il concept che racchiude in sé la parte più avanzata della Nissan Intelligent Mobility, un veicolo 100% elettrico con due motorizzazioni, una sull'asse anteriore e una su quella posteriore, una batteria che consente oltre 600 km di autonomia ed una coppia davvero straordinaria. Qui a Ginevra abbiamo portato due vetture molto importanti che stanno per essere lanciate sul mercato italiano, la Nissan Qashqai con il sistema di guida semi-automatizzata ProPilot in grado di tenere la distanza di sicurezza, frenare e riaccelerare e poi la nostra icona, la nuova Nissan Leaf in grado di parcheggiarsi da sola, tiene la distanza di sicurezza e si guida soltanto con un pedale, un'autentica rivoluzione che fa della Nissan Leaf una vettura unica nel suo genere. Grazie! 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 Grazie!